L'assessore Monia Monni presenta l'informativa del piano dei rifiuti che prevede una forte spinta sul riuso ed economia circolare. L'opposizione lascia l'aula in segno di protesta, scavalcate le prerogative del Consiglio. Limitare lo spopolamento e favorire il lavoro, sì alla nuova legge custodi della montagna, fatti di territorialità e incentivi a chi avvia o mantiene un'impresa in aree oltre i 500 metri di altitudine. Il piano dei rifiuti. Riduzione dello smaltimento finale in discarica, spinta sul riuso e sull'economia circolare, miglioramento della raccolta differenziata fino all'80-85% entro il 2035 e nuovi impianti green di riciclo e recupero, la cui realizzazione passa da un bando esplorativo aperto a denti locali e aziende del settore. E ancora risanamento dei siti inquinati e delle aree minerarie dismesse. Sono alcune delle linee guida del piano rifiuti presentato dall'assessore all'ambiente Monia Monni in un'informativa passata in Consiglio regionale con i voti della maggioranza e senza la partecipazione dell'opposizione. I consiglieri di Fratelli d'Italia, Lega, Movimento 5 Stelle e Gruppo Misto hanno abbandonato l'aula a inizio seduta per protestare contro la bocciatura della pregiudiziale avanzata prima della discussione del provvedimento, pregiudiziale con la quale l'opposizione aveva sollevato eccezioni al procedimento portato avanti dalla Giunta. Come opposizione abbiamo presentato una questione pregiudiziale sul piano dei rifiuti perché ritenevamo e riteniamo che la procedura che sta portando avanti la Giunta sia sbagliata nella forma e nella sostanza. Dopo giorni in cui rispetto a 15 giorni fa ci era stato promesso un approfondimento anche tecnico che sciogliesse il nodo, ieri prima del Consiglio il Segretario Generale in conferenza dei capi gruppo ha detto che rispetto alle previsioni dell'articolo 48 i rilievi delle opposizioni erano fondati. Nonostante questo il Partito Democratico ha voluto andare avanti spinto da una delibera del Presidente Gianni che bontà sua ha ritenuto di superare l'eccezione e i rilievi anche del Segretario Generale dicendo sostanzialmente che loro hanno ragione e non ritengono visto lo stato dell'arte, visto lo sviluppo ormai della procedura di poter tornare indietro e ripartire da capo. Da notare che gli indirizzi del Consiglio regionale dovrebbero arrivare prima che inizi formalmente la procedura. Invece il Presidente Gianni lo ha ribadito ieri in aula, lo ha ribadito di fronte alle telecamere, considera ormai il piano dei rifiuti già avviato. La questione gravissima che ne è derivata con le parole anche del capogruppo Ceccarelli in Consiglio è che il parere del Segretario Generale, che è la massima autorità dell'ufficio legislativo che sta dietro ai lavori del Consiglio, sono state derubricate a autorevole opinioni, facendo prevalere quindi il pensiero dei dirigenti della Giunta sull'organizzazione interna del Consiglio. Si tratta di un ribaltamento dei rapporti di forza tra Giunta e Consiglio che per le opposizioni è inaccettabile e per questo motivo oggi abbiamo deciso di abbandonare l'aula rispetto alla discussione complessiva del piano dei rifiuti chiedendo al Presidente del Consiglio che naturalmente tuteli le minoranze ma tuteli il ruolo stesso del Consiglio rispetto alla Giunta. Innanzitutto preme stigmatizzare l'atteggiamento della minoranza che si è sottratta dal poter dare le indicazioni e gli indirizzi che il Consiglio dà per la redazione di questo importante strumento di pianificazione e di programmazione. Abbiamo avuto la conferma che più che rilevare vizi procedurali il loro atto che è stato proposto ieri di pregiudiziale è un atto di carattere politico teso a strumentalizzare quello che è l'iter che stiamo seguendo per poter intralciare e quantomeno ritardare la redazione del piano. e poi magari per poter dire che la Toscana non ha un piano dei rifiuti e delle bonifiche. Mi dispiace anche sentir strattonare quello che è il ruolo del Segretario regionale che è tutta la nostra stima ma che non è chiamato a dare dei pareri di legittimità. Eventualmente come ben sanno o come dovrebbero sapere se vizi di congruità ci sono tra i regolamenti e lo statuto del Consiglio regionale che è stato richiamato dovrebbero essere trattati dal Collegio di Garanzia. La comunicazione che è arrivata a settembre di fatto è la stessa cosa che oggi sta dicendo l'assessore Monni dopo mesi in aula. È evidente che finché noi non abbiamo degli elementi che mancano totalmente, infatti noi contestiamo fortemente anche la mancanza di elementi per dare una valutazione a quello che sta facendo la Giunta, diventa per noi complesso anche sapere come muoverci. Il tema è uno secondo me. A inizio di questa legislatura Eugenio Gianni disse chiaramente che lui voleva collaborare con le opposizioni. Ecco sta facendo l'esatto opposto. Allora trasformi infatti quello che lui aveva promesso in inizio legislatura perché in questo momento lui sta depauperando il Consiglio delle proprie competenze e dei propri diritti. In un colpo solo si è gravemente minata l'autonomia del Consiglio regionale rispetto alla Giunta e facendo questo si è mancato gravemente di rispetto non a tutti i colleghi dell'opposizione. Ma si è mancato di rispetto all'intero Consiglio, quindi a quelli della maggioranza e si è mancato di rispetto anche al massimo organo, al soggetto che rappresenta il vertice legislativo di quell'organo che è autonomo rispetto alla Giunta e che è il Segretario Generale. Perché così facendo con una delibera emessa all'ultimo momento si è in pratica detto che se la Giunta dice che l'iter procedurale che ha seguito va bene, praticamente se lo è autocertificata. E questo non è accettabile perché è lesivo non soltanto della dignità di tutte le persone che sono a Palazzo Panciatichi e che lavorano per cercare di produrre degli atti che siano il più possibile rispondenti a quelle che sono le esigenze di una cittadinanza degli abitanti della Toscana, ma soprattutto perché così facendo si creano dei vunus legislativi gravissimi. Ormai è talmente in corso il processo che porta al piano dei rifiuti che chiedere sostanzialmente attraverso una pregiudiziale di ripartire da capo non posso interpretarlo che così. Ma io sono contento perché stasera è stata una bella dimostrazione di compattezza, di partecipazione della maggioranza che ha visto non deflettere nessuno al reggere questo atteggiamento più ostruzionistico dell'opposizione e quindi portare alla relazione dell'assessore Monni su quello che sono i criteri di un piano dei rifiuti che è davvero innovativo, profondamente innovativo. Non vi è un atteggiamento dirigistico di una regione che decide dove fare gli impianti dei rifiuti, magari in barba a quello che è la popolazione, magari vedendo poi sorgere comitati o posizioni da parte dei comuni, come è avvenuto in passato. Ma invece si fonda su un bando che chiede ai comuni, ai territori e agli enti che possano realizzare un impianto di smaltimento dei rifiuti di formulare delle proposte. Il riutilizzo dei rifiuti, la transizione energetica deve essere un elemento portante, il riutilizzo delle materie deve diventare un elemento determinante, una logica di economia circolare e soprattutto la produzione di nuove fonti di energia sempre da rifiuti, l'utilizzo delle aree industriali ma soprattutto un doppio livello di verifica che possa essere locale insieme a quello di carattere regionale. Pensiamo alla possibilità di assumere decisioni solamente se c'è un doppio livello di condivisione. Questi sono alcuni degli indirizzi che abbiamo portato in aula dentro una discussione che ha trovato la maggioranza compatta a sostegno di una discussione che ci vedrà impegnati nei prossimi anni. Questo è uno degli atti più importanti che questa legislatura dovrà approvare e ci vogliamo misurare come atto di governo rispetto agli impegni appunto assunti con i cittadini toscani. È evidente che ci auspichiamo quantomeno che sia formalizzato il parere del segretario generale. Questo sì perché per noi diventa importante certificare ciò che sta accadendo che forse agli occhi dei cittadini può sembrare legato squisitamente a dinamiche interne. In realtà qui si tratta del rispetto della legalità, del rispetto del ruolo dei consiglieri regionali che non sono delle comparsa in questo momento ma che devono essere attori di una concertazione che parte dal Consiglio perché il piano dei rifiuti non si fa con l'arroganza, non si fa colpi di atti della Giunta che tra l'altro presentano anche profili di illegittimità. Detto questo c'è un altro aspetto. Noi rischiamo di perdere il treno del PNRR. Il bando nazionale è in imminente scadenza. La Regione Toscana è in estremo ritardo sulla pianificazione. Questo è il dato vero. Quindi non solo c'è un problema di legalità, mettiamola così, ma c'è anche un problema di tempistica che non è da sottovalutare. Il treno del PNRR lo prendiamo adesso oppure siamo compromessi, soprattutto sotto il profilo degli investimenti. E fra tre anni può darsi e ci ritroveremo col piano dei rifiuti dove qualche magari consigliere o tutti i consiglieri o qualche cittadino che si sente leso nei propri diritti fa riconzaltare e quel piano viene annullato. Annullando una pianificazione di tre anni, mettendo in discussione la serietà dell'ente legislatore del Consiglio regionale, che siamo noi stessi, cioè tutti i consiglieri, mettendo anche in dubbio che i contenuti di quel piano fossero corretti e che in Regione Toscana si fanno le cose per bene. Siccome per noi viene prima l'onestà intellettuale e anche l'onestà fattiva, siamo pronti a tornare tutti quanti a casa a ripresentarci alle elezioni, b a fare tutti i percorsi, come hanno detto bene i consiglieri prima, che riteniamo più opportuni per denunciare da un lato politicamente quello che è un vulnus che non abbiamo mai visto in quest'Aula, cioè il Consiglio regionale viene esautorato delle sue funzioni perché è la Giunta che ci dice quello che dobbiamo fare. Per noi diventa inaccettabile. Dico una cosa che abbia modo di dire da assessore regionale all'ambiente. La Toscana sui temi dell'economia circolare può essere davvero terra d'avanguardia e la comunicazione fatta dall'assessore Monni, che ringrazio anche per aver chiamato l'eredità venuta dallo scorso mandato, ci dice esattamente che questa è la strada da seguire. È una regione che è dotata prima in Italia di una legge sull'economia circolare moderna, attuale e che oggi intende interpretare quelle che sono le spinte europee con un occhio all'innovazione, volendo dare risposte concrete non solo ai cittadini, ma anche ai nostri sistemi produttivi che stanno soffrendo. Dobbiamo ridurre fortemente il conferimento in discarica e questo lo si fa aumentando la raccolta differenziata e investendo sulle nuove tecnologie. Questa è la sfida vera, quindi il nostro sarà un piano sicuramente ambizioso, impegnativo, partecipato, come ha detto l'assessora e per questo siamo ovviamente attoniti dal fatto che l'opposizione abbia preferito, invece di entrare nel merito della discussione, trincerarsi dietro una sterile propaganda, evidentemente perché assente di argomentazioni concrete. Ne prendiamo atto, aspettiamo gli appuntamenti successivi affinché anche loro portino qualche idea. Fino ad oggi le uniche che ho sentito dire parlano di un termo valorizzatore per ogni provincia e non dicono nulla rispetto alla raccolta differenziata e al sistema delle discariche. Quindi aspettiamo davvero di poterci confrontare con loro ma non aspetteremo in eterno perché il PD è una forza responsabile, vorrà lavorare per dare risposte anzi in un tempo molto breve, il più breve che sia consentito. Custodi della montagna. Prevedere misure specifiche per i soggetti che vogliono avviare un'attività produttiva o riorganizzarne una esistente nei territori dei comuni montani e dare incentivi economici per svolgere attività finalizzate sia alla cura e custodia dei luoghi, sia di carattere sociale in favore delle comunità locali di riferimento. Lo stabilisce la nuova legge regionale a sostegno delle aree montane, approvata dal Consiglio regionale e illustrata in aula da Ilaria Bugetti, presidente della Commissione Sviluppo Economico. L'atto, elaborato dal capogruppo PD Vincenzo Ceccarelli insieme al consigliere Mario Puppa, è stato emendato in commissione dai gruppi di opposizione. La nuova legge regionale è stata approvata con 33 voti a favore e il voto contrario di Forza Italia. Tra le modifiche sostanziali della legge è stato allargato il bando alle imprese che si trovano a 500 metri sul livello del mare e non più a 600. Riguardo all'importo erogato, è stato ritoccato portandolo da 30.000 a 25.000 euro in 5 anni. L'atto prevede anche un contributo aggiuntivo, pari al 20%, per le imprese che stipulano con il comune una sorta di patto per far sì che siano svolti alcuni compiti per la tutela del territorio in ambito forestale, ma anche la cura del territorio o attività sociali in favore del comune stesso. Infine si dà alle imprese che già operano su quei territori la possibilità di stipulare con il comune patti di territorialità e di ottenere un contributo a fondo perduto di 15.000 euro in 5 anni, questo per sostenere anche il mantenimento delle imprese esistenti. La proposta di legge custodia della montagna questa mattina abbiamo dato centralità nel dibattito a dei territori che pur componendo grande parte della nostra regione sono o si sentono dimenticati. Territori che hanno sofferto e soffrono dello spopolamento. E lo spopolamento è sinonimo di abbandono, è sinonimo di degrado ambientale, paesaggistico, sociale. Quindi dobbiamo mettere in atto delle misure che invertono questa tendenza e che consentono di poter rimanere a vivere in montagna, di poter custodire un territorio che è un territorio bello e importante anche per chi abita in pianura. Una legge importante a sostegno della montagna dove le persone diventano custodi della loro stessa terra, una terra d'origine che molte volte è anche un elemento identitario, culturale di appartenenza, dei contributi che verranno elargiti alle imprese che nasceranno nelle realtà di montagna o che vorranno ristrutturarsi. Molte volte possono essere anche giovani che scelgono come scelta di vita, di aprire un'attività e ne diventano custodi, possono fare dei patti di comunità con le loro città, con le loro montagne e questo sarà un elemento discriminante, un contributo a fondo perduto che può fare la differenza quando nei piccoli territori magari si decide se chiudere una strada cinesca o tenerla aperta o se si decide di investirci. Grazie a tutti!